Grande Fratello Vip 3 Grande Fratello Vip 3, anche Andrea Cerioli ed Alex Belli tra i possibili concorrenti A diversi mesi di distanza dallinizio del reality, Novotv e Novella 2000 suggeriscono i nomi dei vip che potrebbero far parte del cast. La terza edizione del Grande Fratello Vip è alle porte e già è cominciato il toto scommesse sul web per scoprire chi entrerà a far parte del cast del reality il prossimo autunno. . Nelle scorse ore, infatti, diversi siti di gossip hanno cominciato a stilare un lungo elenco di personaggi che potrebbero o non potrebbero entrare a settembre nella casa più spiata dItalia. Ma vediamo insieme di chi stiamo parlando. Riparte il Grande Fratello Vip. . La versione nip del Grande Fratello è finita solo da qualche giorno e già gli amanti del reality stanno aspettando con assi allinizio della versione vip dello show. Questultima infatto dovrebbe prendere il via il prossimo autunno e dovrebbe avere alla conduzione sempre Ilari Blasi, accompagnata da Alfonso Signorini. . La location dello show ovviamente sarà sempre la stessa che abbiamo potuto ammirare nelle prime due edizioni del reality. Per quanto riguarda il cast, non è stato ancora annunciato nessuno di ufficiale, anche se già tante riviste e tanti siti hanno elencato un numero infinito di personaggi che potrebbero entrare nella casa. . Per esempio, la rivista Nuovo TV aveva annunciato che al GF Vip quest'anno avremmo potuto trovare Francesco Monte, Claudio Sona, Karina Cascella, Aida Nizar, Emanuela Atitocchia, Lori Del Santo e Massimiliano Coletti. . Ovviamente nessuno di questi nomi al momento è stato ufficializzato dalla produzione del GF. Va detto che, oltre al settimanale Nuovo TV, ad interessarsi al cast del reality questa settimana è stata anche un'altra importante rivista nazionale, Novella 2000. . . Nell'ultimo numero, Novella 2000, la nota rivista settimanale, ha annunciato che nella casa del GF quest'anno potremo ritrovare tanti personaggi italiani, ma anche qualche star straniera. . . Per quanto riguarda i Vip del nostro paese, infatti, potrebbero esserci il padre di Belen Rodriguez, Gustavo, l'esperto di stile, Giovanni Ciacci, gli ex tronisti di Uomini e Donne, Andrea Cerioli e Luca Speracchi, la cantante e conduttrice Iva Zanicchi e l'attore di soppopera, nonché ex naufrago dell'Isola dei Famosi, Alex Belli. . Inoltre, potrebbe anche essere presente nella casa la prima vincitrice del grande fratello Nip, Cristina Plevani. Per quanto riguarda i Vip di caratura internazionale potremmo vedere nello show Caterine Kelly Lang, la bellissima Brooke della soppopera americana Beautiful. .